Ciao cari, questo è il momento in cui dedico del tempo alla scrittura della trama o comunque alla scrittura di tutte le scene, di tutte quelle idee che mi vengono in testa per cercare di rappresentare il video ovviamente prendo un taccuino e le scrivo lì oppure leggo qualche libro ascolto musica e me ne vado nel relax assoluto praticamente viaggio bella raga, questo è un video un po' improvvisato o quasi, possiamo dire, c'è sempre un montaggio dietro improvvisato perché sto andando a vedere la... che sto andando a vedere? sto andando all'orto botanico a vedere la zagara di primavera in fiore comunque è un'esperienza da fare sì, per adesso ve lo dico sono assolutamente intrito e poi infissa con questa roba riguardo le piante, quindi la conoscenza delle piante che cosa succede, come possono aiutare e sopportare ovviamente gli esseri umani infatti per adesso sto comprando anche delle piante ornamentali quindi anche vere per la mia stanza nella stream house sto cercando di comprendere robe pertanto raga, questa sarà un'esperienza interessante potete commentare riguardo il vostro punto di vista il vostro parere, è importante quindi lasciate un commento qui in basso e iscrivetevi al canale per supportarci, per supportarmi e per supportare il nuovo Medusa Podcast pertanto faremo questa esperienza vedremo un botto di roba all'orto botanico tante piantine, tante cose, tante cose dolciose e graziose pertanto ci si vede tra pochissimo buonasera che faccio, non ti riprendo mentre sei nel tuo mood sei cara, mi voglio ricordare di questi momenti stasera si mangia alla grande mi dicono ma questo è vicino come? ma questo è vicino why not mi metto più lontano scusa wow e quindi andiamo a prendere la metro per andare alla stazione centrale di Palermo e questa è Piazza Lolli siamo a Piazza Lolli e c'è un casino di robe riguardo la street art ovviamente siamo a Palermo Palermo sta diventando la capitale della street art ovviamente tutti i buskers o comunque tutti gli artisti si mettono a dipingere per valorizzare la città ecco, appunto che roba non ha una filiale ah shit here we go again la tarraia camminando camminando si va a prendere la metro che ci lascerà praticamente all'orto botanico cioè stazione centrale da lì poi arriveremo al volo all'orto botanico che poi è un luogo assolutamente affascinante poi per vedere la zagara di primavera che sboccia e prende e rende vita e quindi la natura che si risveglia è qualcosa di super interessante ma prima di tutto chiamiamo l'ascensore l'experience alla stazione di piazza lolli e poi la mia fidanzata è già sulla metro e mo arrivo ok quanto sembra strano alla stazione di piazza lolli ovviamente murales ovunque anche dentro la stazione noi siamo qui che aspettiamo la metro però che figata questa è una grandissima figata come murales sempre per quanto riguarda la user experience e siamo arrivati all'orto botanico qui c'è ovviamente tutto l'itinerario per quanto riguarda le piantine e ovviamente è collegato a Villa Giulia che è un'altra sezione di Palermo in cui ai tempi avevano addirittura un leone però è un bel posto comunque in cui poter stare e dunque entriamo direttamente per vedere le piantine e si inizia qui è messo un po' così però i zuccheri questa è l'entrata ovviamente tutto super decorato con le piante e mo si va lì che sembra una luce led in realtà è semplicemente viola vediamo che succede ma qua c'è un bottone di ropa quindi qua mi sa che è raccontata la storia delle piante mi piace che c'è degli erbari antichi che fanno i bambini che cuglierano faccia da la storia che fanno i bambini stradificata da questo vasco ma ci vedo la storia è un po' di passato se mi sono arrivati in città in più un po' a scuola e vi io non credo che possiamo veramente che c'è la tratta che c'è che c'è che c'è se c'è 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 t'è Sicuramente è un posto diverso Sarà poco sani quasi Probabilmente Che bagno È un po' super interessante Poi c'è roba conservata nell'acqua come fai tu Ogni tanto per mantenerli in vita La versione Frankenstein delle plante E poi i semi Non sono semi di caffè Ma sono semi E poi la coscia splendida è nei pezzi di carta Delle frode in mattino Per descrivere sicuramente queste piante Questi semi È interessante Questo mi sa che è cotone Sì, però esserci gli alberi e gli cotoni Andiamo a vedere gli alberi di cotone Ma là ci sono un botto di piantine Piantine in mezzo al verde Sai che poi Palermo va bene Che te lo dica a fa, Palermo è tutta verde Impopoliamo il mondo di piante Non ci servono le piante Come dice Fabiola Per la vita Ma qua non è la pianta bionda Quella arancena Ma che figata Quanta bellezza E questo è Medusa Podcast Però un po' così Un po' diverso Ma ce n'è una varietà sconfinata Che caruccia si Pink is the new black Volendo E poi Ma queste piantine Cosa Sono bellissime qua Sì, cosa sono? C'è scritto Abbiacetum E qui Cetum Iemale Eh, io latino ai tempi Tra l'altro Eh, con Cesare La lavanda che poi Tanto buono Positive vibes comunque Per queste piantine Ricorda un po' Campo dei Fiori di Roma Ma quanto sono graziose Queste piantine Oh Insomma Piante e fiore Ovunque Praticamente sì Questa è una pianta Che fa parte Dello scenario Liberty di Palermo Il Bougainville Disse Fabiola Sono tutte viola Sono delle figate Varissimo Per il viola Sì Forse anche troppo viola Però Colore amici di alto E poi si va lì Più E queste sono Le figlie del vento Sono delle piante aeree Che a quanto pare Mi affascinano tantissimo Davvero Crescono nell'aria Non si piantano Ma crescono e basta Questa roba Non si piantava nessun'altra Una figata Da avere in camera Totalmente Infatti Queste sono delle piante Affascinantissime È assurdo Vedere che queste piante Volano letteralmente Non hanno delle radici Agganciate alla terra Esatto Si nutrono d'aria proprio E crescono Ogni tanto Si spruzza dell'acqua Ovviamente L'acqua è vita Che figata La voglio prendere E ce ne sono di diverso tipo Riguardo queste piantine Che poi diventeranno Grandissime O comunque Diventeranno autonome Quindi queste piantine Letteralmente volano Figata ma tipo una La sto prendendo La stiamo prendendo E poi ci sono Ovviamente I super tronchi Per poterle far crescere Crescono al contrario Crescono Nell'aria Si capisce E poi Le rose di Jake Sono queste piante aeree Che crescono a caso Praticamente E a quanto pare Sono dei talismani viventi Boh Chissà perché Comunque una Tipo la stiamo prendendo Una a testa Si Sto cercando di arricchire La mia stanza Di piantine Perché queste Tra l'altro Sono super anti-smog Vivono per i fatti loro Praticamente Cioè Molto easy Un piccolo bugandino E già stava prendendo Il più massiccio di tutti Che poi Fa una certa Atmosfera Praticamente qui Sotto questo Super coso Ma comunque raga Piccolo of topic Oltre le piante Prossima settimana Arriveranno i microfoni O comunque arriverà Un microfono Per migliorare La qualità dei video E tra l'altro Abbiamo deciso Di prendere I fbiola Delle piante aeree La mia stanza Da streamer E nella sua casa Da genitrice di piante Ci saranno Ci sarà una nuova pianta Che vola Quindi la vedrai Con le ali Da pipistrello Per forza E io invece Sta piantina Ho deciso di prenderla Perché È graziosa Vediamola La mia piantine Ma sono proprio piccina Sì E già ci sono tipo I rametti Comunque qua Diciamo che Sempre delle good vibes Con le piante Stavo dicendo Arriverà Un microfono Intanto Noi siamo In Porto Botanico C'è un casino Di gente Che compra Delle piante E questo Mi fa stare Tanto tanto bene Comunque da streamer Io non ho potuto Fare a meno Di vedere Questi led O comunque Queste luci In teoria Dovrei comprare Un giorno arriveranno Comunque ci sono Un casino Di piante E poi Una statua Ok Bella raga E qui Siamo circondati Dalla natura Non si sentirà Ovviamente niente Come sempre Ma tanto arriverà Il microfono È un momento Di relax Qui in mezzo alle piante È giusto Che ci sia Ovviamente Non è che si può Rilassare solo Con la statua Anch'io devo E poi è figo Stare qui In mezzo a questo verde Viola Arancione Qui dietro Rosso Scusi dottore E robe Comunque piante Ho capito È una giornata diversa Con un'esperienza diversa E la cosa più importante È quella di supportare La natura Perché raga La natura Ci dà la vita Quindi è giusto Poter prendere Delle piante È giusto poter Iniziare a coltivare Delle piante Io mi sono appassionato Veramente Mi sto appassionando E la colpa È della Della videomaker Ho già Tre piante a casa Di due piante grasse E una che comunque È bella snella Comunque Longilinea L'altra E poi La pianta Quella che vola Metterò delle ali Da pipistrello Vedrò che cosa farò Però la cosa fighissima È che Si Si respirano Si respira un'aria Molto più pulita Quindi supportiamo La natura Vedremo ancora qui Altre piante Altre piantine Piante Che mi dici Caggezza Queste sono proprio fighe Questa sembra una pianta Da lago Alucasia Che hanno dei nomi Che somigliano Che somigliano a quelle di draghi Che poi Quella pianta lì sotto È una di quelle che preferisco È una figata Almeno Come nuovo Come nuovo mood Collection In effetti Queste sono proprio graziosi Questa è una borsa Di presentata Che è La pietra Ormai Fabiola Mi ha fatto appassionare Riguardo questo mondo Delle piantine E il podcast Si trasforma in Super Vegan Vegan Gluten free podcast What the fuck E poi Quanto sono graziosi I colori Di queste piantine Ovviamente queste Devono vivere Sotto il sole Col sole Con la luce La fotosintesi Ste cose Praticamente Devono trasformare Il carbonio In aria Super pura Qui servono gli spazi aperti Questi Pallini Pallini Che graziosi Si chiamano Craspedia O craspedia Non lo so La pronuncia Che ne so io Però sono tanto graziosi E poi ogni tanto La natura Piove Nel cielo Ma tanto noi Abbiamo l'ombrellino E in caso Ci ripariamo al bar Bella la natura Però Non vogliamo Raffreddarci Più di quanto sia Un tratto Una piantina Di cui non sappiamo Come si chiama Siamo finiti Tra le piante Dei boschi Praticamente Quelle che si nutrono Di umidità Praticamente Le piante Che si possono trovare In pianura padana Tranquillamente E poi Mi aspetti Una piantina Di basilico Che fai Tenebrivi Di un po' Di basilico Ovviamente Serve sempre Raga Per cucinare Il pesto Per condire La pasta Con la salsa Basilico E ci deve essere Dentro casa Ma anche fuori Quanto è figo Questo è Un laghetto È vero Cavolenità Ci stanno Un botto Questo è il momento Incredibile Non c'è 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 assolutamente Il colore Pesca Vero Sembra Il colore pesca Che poi Il momento È perfetto Sta piovendo In realtà Sta diluviando Gocciola tutto Però Questo laghetto E poi Noi due Che ci diamo Tantissimo In mezzo alle piante In mezzo all'acqua In mezzo Ai muschi Ai riteni E al nubifraggio C'è un po' ovunque Però È una bella esperienza Dall'altra parte A grande richiesta Comunque La voce È tutta distrutta Perché ancora Sono raffreddato E sto in mezzo all'acqua No va bene Però A quanto pare Le piante Danno vita Donano vita E quindi Sto facendo la ricarica Di Good Vibes Lo sfondo La compagnia È tutto È perfetto È viciniale È tanta roba oggi Una sorta di documentario Alternativo Di Medusa Podcast Le piante Con l'amore Che roba strana Che roba Ammucinante Allora Qui ci sono due piante Cardinale Io con questa Con i fiori E questa è la base Con la porta Le piante Che si mangiano di tutto Si tengono al sole Con il taglio di acqua Sotto E' una cosa Si C'è conto Sono piante da conmuda Queste Ah ok Si mangiano Si mangiano Si mangiano purissimo E si mangiano di acqua Arrivano le piante Al guante Certo Le piante che volano E poi le piante Che crescono Tutta Che nuotano E non è che bevono l'acqua Ci vivono proprio Ma queste credo Che facciano parte Sempre delle zone Pordose Credo Non credo Che crescano in città Cioè Troppo Sommersa La bellezza Proprio Si esatto La bellezza Anche di Fabiola E la bellezza Di tutto questo A Palermo All'orto botanico Diventata più piccina E' bello Perversi In mezzo Tra la musica Jet Le piante E comunque Delle good vibes Poter raccontare Questa storia O comunque Riprendere questa storia Dall'inizio Alla fine Quindi Fare questo giro Dall'inizio Fino alla fine Tra le piante Completamente E' una nuova idea Di storytelling Per raccontare Quello che succede A Palermo L'orto botanico Tra l'altro E' l'evento Più bello Dell'Italia A quanto pare Ce lo invidiano In tantissimi Tra l'altro E' stato Un luogo ricco Di cultura Dal punto di vista Delle piante Perché abbiamo visto Un casino di piante Nuove E dopo l'esperienza All'orto botanico Ho preso esattamente Una piantina Volante Una pianta aerea Che praticamente Non ha delle radici E fluttua nell'etere Praticamente E' la rappresentazione Della mia mente Ed è una figata Questo comunque E' l'ultima sezione Del video Ad ogni modo Questo è sempre Il nostro documentario Documentario Che riguarda Esperienze di vita Piantine che volano Plus una pianta viola Una super pianta viola Che ci sta Ciao cara piantina Che vola Perché lei si Raga vola Come il sale Sale Pertanto Ci siamo fermati Al bar Pertanto Questo E' una sorta Di documentario Completamente alternativo Su Medusa Podcast Quindi Da base Abbiamo raccontato Qualcosa Riguardo le piantine Ovviamente Caricherò tutto Lo suo tipo Cerco di raccontare Robbe Storytelling Informazioni Esperienze Soprattutto Pertanto Ci si vede Raga Al prossimo video